Io resto a casa, giorno 6 Nel giorno 6 vi voglio consigliare un titolo che non ho mai sentito da nessuno Ovvero Cronology, platform puzzle game di altissima caratura dove il personaggio, anzi personaggi sono due Ovvero una lumaca e uno scienziato I quali dovranno affrontare livello dopo livello, schermata dopo schermata Risolvendo degli enigmi basati sullo spazio-tempo e l'utilizzo della sua amica lumaca magica Non vi dico nient'altro perché non vi voglio spoilare Si finisce in 3 ore Però la storia, ammetto che è fighissimo, anzi mi emozionerà, mi sono affezionato ai personaggi E il sistema di gioco di puzzle, di gestione del tempo, del passaggio sui due piani Passato, presente e futuro È bellissimo Merita, merita, merita Questo gioco va giocato, lo dovete scoprire Ve lo voglio far scoprire È un gioco di tutto rispetto ed è uno scandalo Che la gente non lo consigli E soprattutto non si trovino recensioni su nessun portale di questo titolo Che è veramente molto ma molto bello Che è un gioco di tutto rispetto a questo? Che è un gioco di tutto rispetto a questo? Che è un gioco di tutto rispetto a questo? Grazie a tutti.